Cosa predicava lui? La partecipazione. Oggi c'è un pericolosissimo tentativo di accettare quello che è il decisionismo. Questa cosa è così, punto e basta. E questo non è il messaggio che una democrazia si dovrebbe permettere. È vero che comunque, in qualunque forma di dialettica, di partecipazione, poi c'è un momento in cui si decide. Ma la decisione senza un confronto vero, autentico, partecipato, è, diceva lui, immorale. È stato attraverso delle ricerche che effettua sui contenuti storici del nostro paese, quindi anche nascite e morti di uomini importanti che hanno fatto la storia del nostro paese, vado a fare queste ricerche e vado a proporre nelle varie sedi istituzionali la possibilità di realizzare l'annullo filatelico. Oggi si celebra gli 80 anni della nascita di Piazzanti Mattarella. Naturalmente sappiamo che il compleanno è domani, ma per questo tipo di occasioni l'annullo si può dedicare tutto l'anno.